Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Oggi è stata ufficialmente inaugurata la Senzia 2016. Lei ci andrà? Vado adesso a mangiare un panino? Sì, abito sulla fiera in più. Non so cosa sia. È la prima volta che vengo qui. Non mi aspettavo di vedere così tante bancarelle, tanta gente in giro. Cosa attende con maggior interesse? Un po' tutte le cose, sono tutte interessanti. Le cose da cucina soprattutto, i ristorantini che ci sono, il buon mangiare che fanno sulla fiera. L'ascensione è sempre bella. Ma guardi, non è che... vado per fare giusto un giro per vedere le bancarelle e basta. Niente di che. Perché viene una volta all'anno e mi piace vedere un po'. Sono stati eliminati i fuochi d'artificio a favore della banda della città di Voghera. È felice di questa scelta? Non tanto. Come mai? Perché i fuochi d'artificio portano allegria e sono sempre belli. E dunque, secondo me, non dovevano eliminarli. Preferivo i fuochi artificiali, perché sono più spettacolari. Di notte andiamo in collina qui attorno, si vedono che è una meraviglia. Penso che comunque non sia cambiato più di tanto, perché poi alla fine sono sempre le solite gira e gira. Penso non sia cambiato quella granché. Penso che forse non è avest Talicune. Grazie a tutti.